Avete una vecchia televisione che ora vorreste tanto poter sostituire con una Smart TV? Potete farlo senza comprare un nuovo apparecchio. Tutto ciò che vi serve è lei, NVIDIA SHIELD TV 2017. Vi spiego come, tra poco, qui su Tech Princess. Quella che ho qui accanto a me si chiama NVIDIA SHIELD TV, ed è un box multimediale che vi consente di fare due cose differenti. Trasformare la vostra TV tradizionale in una Smart TV e giocare ai videogiochi usciti negli ultimi anni senza dover comprare una console. Due compiti apparentemente difficili, ma che in realtà non richiederanno nessuno sforzo da parte vostra. Per usare NVIDIA SHIELD TV vi basterà collegarla alla televisione tramite l'apposito cavo, connetterla alla rete internet di casa e seguire le indicazioni a video per configurarla. In pochi minuti sarete pronti all'uso, ma utilizzarla per fare esattamente cosa? In primis potete sfruttarla per vedere le vostre serie TV preferite su Netflix o Infinity, per guardare i video su YouTube, per ascoltare la musica su Spotify o per seguire le ultime notizie grazie a una serie di applicazioni scaricabili dal Google Play Store. Sì, ho detto Google! NVIDIA SHIELD TV infatti sfrutta il sistema operativo Android, proprio come fanno alcuni smartphone. Questo vi consente quindi di installare sul box multimediale alcune delle applicazioni presenti anche sul vostro telefono. NVIDIA SHIELD TV può magicamente trasformarsi anche in una console. Non mancano infatti i giochi normalmente disponibili sui dispositivi Android, ma con una grande differenza. Potete giocarci sia con il piccolo telecomando in dotazione che con un vero e proprio controller, anch'esso contenuto nella confezione. Se dentro di voi si nasconde un vero e proprio videogiocatore, allora sappiate che NVIDIA SHIELD TV vi consente anche di sperimentare i videogiochi tipici delle console casalinghe, come ad esempio Tomb Raider, Deus Ex Human Revolution, The Witcher 3 e No Man's Sky. Attenzione però, tutti questi titoli disponibili abbonandosi al servizio GeForce Now non vengono direttamente installati su questo piccolo box, ma vengono trasmessi in streaming usando la vostra connessione Internet, proprio come succede con i video su YouTube. Quindi assicuratevi di avere una buona connessione prima di procedere, altrimenti il gioco risulterà lento e con una grafica davvero poco chiara e definita. NVIDIA SHIELD TV 2017 si rivela quindi un'ottima soluzione in grado di arricchire il vostro TV, ma anche il vostro salotto. Direi che anche per oggi è tutto, io vado a provare qualche nuovo videogioco con la mia NVIDIA SHIELD TV. Voi nel frattempo non dimenticatevi di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. Ciao!